Il più vince, il più forte, vince, 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 vince la lotta, funziona sempre così, ecco. Qui, beh, è trovato una fracchezza, Iadre, perché qui c'è nessuno, almeno, per adesso non c'è nessuno, poi magari tra un po' cambia lo skip e cambia lo skip e quindi si ribalta completamente la baracchia. Ma non penso, più o meno a quest'ora il segnale... C'è un po' mai così tutta la settimana, eh? C'è il damer nel tumore, eh? No, sono... prima no, eh, Sauron, prima usavo i 100 watt, prima usavo i 100 watt, usavo tutta la potenza, allora adesso la metà, sono 50-60 watt, non di più, eh? Ma come, come Sauron, dice, una pezzo di fibra, non è una pezzo di fibra, questa è una famosa, sono famose hand fit, non solo long wire, non solo hand fit, ai ai ai, quindi mettiamo i puntini su lei, eh? L'antenna fa tutto, questo va bene, eh? Oh, questo va bene, ecco. Per te, Iader, non dovrei dire perché... Non so, forse Iader, Iader, Sauron se ne accorgi, ma io, appena cambi l'antenna, se ne metti uno, due, tre, quelle che hai lì di disposizione, a parte che sono di Polo, è più forte, me ne accorgo subito, fai 940 qua, quindi non... Non scherzi, eh, non scherzi, di Polo...